Sopravvenuti e improrogabili impegni del Presidente di Giunta. Questo è il motivo che ha fatto saltare l'atteso incontro per fare il punto sulla società unica dei trasporti, la tua, previsto per questa mattina a Palazzo Silona all'Aquila, tra il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso e il suo staff da una parte e Gesù Eppelupo, segretario regionale UGL Trasporti, e Franco Rolandi, segretario abruzzese della Fil CGL, dall'altra. Sul tavolo i nodi ancora irrisolti dalla riforma che ha portato alla fusione in un'unica società di ARPA, GTM e San Gritana. Il primo nodo è quello del contratto unico che dovrà amalgamare aspettanze economiche, turni di lavoro, diritti e doveri di 1600 dipendenti, provenienti da tre società diverse. I contratti di GTM e San Gritana sono decaduti il 31 agosto, quello di ARPA sarà disdetto il 15 settembre, ma il nuovo contratto non è ancora pronto. C'è poi il nodo della sovrapposizione treno-gomma. Nel piano industriale Latua si prevede il taglio delle tratte con pochi passeggeri che saranno sostituiti ovunque possibile con le corse dei treni, ma i sindicati fanno osservare che tantissimi paesi dell'entroterra sono distanti di qualche chilometro dalle stazioni e si pone il problema di garantire comunque un servizio di bus navetta correlativa autista, di cui però nel piano industriale non vi sarebbe traccia. E si fa anche notare che per arrivare da Vezzano a Pescara con il treno ci si mettono tre ore con l'autobus la metà del tempo. Infine, terzo argomento di cui questa mattina si doveva discutere, quello delle subconcessioni. I sindacati vogliono sapere quali corse saranno affidate ai privati. Non svenderemo le linee produttive assicurate il presidente Latua Luciano D'Amico nei precedenti incontri, confermano Lupe e Rolandi, che si chiedono però allora quale privato sarà disposto ad accollarsi le tratte poco trafficate e remunerative, cosiddette ramisecchi.